Diciottesimi a livello nazionale per il consumo di droga a Rezzo si conferma dunque seppur con un calo, l'anno precedente eravamo decimi, ai vertici nazionali per il consumo di stupefacenti. Il dato arriva da uno studio del sole 24 ore sui reati fino al 2018 in cui spiccano le denunce, oltre che per gli stupefacenti, anche per i furti in abitazione e le frodi informatiche. L'approccio con la droga purtroppo avviene in età sempre più giovane e ci sono nuovi metodi di consumo, sempre più pericolosi. L'approccio si è abbassato, però sicuramente si è abbassato da almeno un anno da quando io lavoro al seto, ormai sono più di 25 anni. Probabilmente intorno ai 13 anni comincia il primo contatto con sostanze importanti. Viene messa l'eroina sopra delle stagnole riscaldate con l'accendino, con altre fonti di calore e aspirata. Anche assumendola, inalando i fumi di combustione, l'eroina può dare overdose e sicuramente presto dà dipendenza. Il dato positivo è che il CERD di Arezzo ha aumentato i casi in carico, segno evidente che i giovani, dopo un problema importante di dipendenza da sostanze, cercano aiuto. Il dato epidemiologico delle persone che sotto i 24 anni sono in carico ai servizi fortunatamente aumenta, perché questa è una cosa che noi registriamo. Questi ragazzi hanno un uso importante delle sostanze. Per qualche tempo, mediamente due anni, qualcosa più alcuni, sono molto coinvolti nell'uso delle sostanze, però improvvisamente decidono di smettere e smettono. E tornano a confrontarsi, comunque più attrezzati, magari mettendo anche a frutto i percorsi che fanno presso questo servizio o altri servizi della ASL o le agenzie nel territorio si offrono, nella scuola, nei gruppi di amici, nei gruppi del volontariato, nell'associazionismo sportivo, in famiglia, e finalmente si confrontano con migliori e maggiori abilità con i problemi di prima. Sempre secondo lo studio del Sole 24 Ore, aumentano i furti in abitazione 1.106, uno dei dati più importanti degli ultimi anni, per una media di 322 ogni 100.000 abitanti. Nel 2017 erano 303. Un indice di criminalità comunque sotto la media del paese, con la provincia di Arezzo sessantesima in ambito nazionale.